La casa indiana Tata ha acquistato dalla Ford le attività dei marchi Jaguar e Land Rover e questo accordo è stato finalizzato il 26 marzo. Nella foto si vedono da sinistra Ravi Kanta, Managing Director di Tata Motors Ltd, e Alan Mulally, Presidente di Ford Motor Company dopo la firma dei rispettivi documenti. Ma ora per continuare in casa Ford, vediamo subito il servizio sulla nuova crossover della Ford presentata a Ginevra, la Ford Kuga. Ford Kuga è il primo prodotto di Ford Europa nel competitivo mercato dei crossover compatti ed ampia ulteriormente la gamma dei modelli Ford. Anticipata dallo spettacolare concept car EOSYS X che ha debutato al Salone di Parigi del 2006, Ford Kuga condivide il pianale con Focus e C-Max e verrà prodotta nello stabilimento di St. Louis in Germania per essere commercializzata in 32 paesi europei. Carismatica, ricca di espressività e di grandi capacità, Ford Kuga è caratterizzata da un design in cui gli elementi del kinetic design si combinano tra loro per rinforzare la filosofia Ford dell'energia in movimento. Il linguaggio delle forme e le grafiche marcate si fondono per dare l'impressione della vettura in movimento anche quando è ferma. Dinamica, ben bilanciata e con ottime proporzioni, Kuga garantisce una spaziosa abitabilità per il guidatore ed i passeggeri. Gli interni di elevata qualità sono stati progettati per combinarsi con lo stile esterno ed offrire un veicolo moderno, elegante ma estremamente pratico. Ford Kuga è stata progettata e costruita per offrire su strada normale dinamiche di guida al vertice della classe ed eccezionali capacità off-road grazie al sistema di trazione integrale intelligente AWD della Aldex, alla collaudata tecnologia con la nuova taratura dello chassis con il sistema McPherson sull'anteriore e dalla tanto apprezzata sospensione posteriore control blade di Ford. Equipaggiata con il motore Ford DuraTorque TDCI 2 litri da 136 cavalli con DPF di serie abbinato al cambio manuale DuraShift 6 marce, Ford Kuga si comporta in modo consistente quando si affrontano pendenze e può vantare un valore di CO2 di 169 grammi al chilometro, il migliore della categoria. Su Ford Kuga sono previsti una grande quantità di sistemi di sicurezza attiva e passiva, di serie tra cui 6 airbag, l'ESP con EBI e la qualità sonora dell'ambiente interno è garantita dalla riduzione al minimo dei rumori provenienti dal vento, dal motore e dalla strada. L'allestimento previsto per Kuga è più ricco e garantisce una forte caratterizzazione visiva ed include l'ESPTCS, il climatizzatore automatico Vizzona, il sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel, il pulsante Ford Power per l'avviamento senza chiave ed il portellone posteriore sdoppiato, tutte esclusività di Ford Kuga. L'allestimento Titanium si arricchisce con i sedili in pelle parziale, cerchi in lega da 17 pollice, cruise control, blue glass per offrire ai clienti livelli superiori di qualità. Nuovi sistemi audio e di navigazione con display a 5 e 7 pollici, touchscreen, bluetooth con comando vocale e telecamera posteriore sono disponibili insieme al Titanium Pack che include cerchi in lega da 18 pollici, tetto panoramico e privacy glass.